Motore LED nel tedesco con riduttore epicicloidale, elica da 15 pollici, l'ho montato su questo meccanismo che ho autocostruito, recuperando un pezzo in binario di un vecchio hard disk, con questa catena tira su questa camis qui, la quale preme su una bilancina elettronica, questa è una bilancina purtroppo che fa solo 2 kg, quindi spostando questo fulcro si può anche demoltiplicare il tiro. Grazie a tutti.